Siamo più vicini, più vicino alla scuola, 4, 3, 2, 1, all right. Per Reale Mutua, Fenera Chieri, Marta Attuli, MVP, first of all, congratulations, you played a beautiful game, contributing to a meaningful victory, coming in a really busy calendar. How do you feel? I feel great, first of all thank you to my team, we all played amazing, we all played together, everyone knows it's been a very difficult couple of months lately, and we just want to keep pushing, we can't wait now for the game of Wednesday, the final, and we keep pushing on the championship. Seeing from the stands, it looked like an easy win for you, but how was on the court, what kind of game was? It's not easy, this league there is never an easy game, you just have to always play good and your best performance, because if you don't play good, you might win no matter who plays against who, and we just stuck all together and we played well. We cannot ignore the presence of your supporters tonight, how important is their presence for you when you are playing? They are crazy, but a good crazy, they are amazing, they are always everywhere, they came to Switzerland, they came to France, they are coming everywhere, they are just, they are amazing, I have no words. Do you want to say something in Greek for your fans? Thank you very much, congratulations. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Per essere sempre con noi, mi aspettiamo. Grazie. Per Onda Olivero San Bernardo Cuneo siamo qui con Terry Enveombu. Terry, ultima partita in casa della stagione, non è andata sicuramente come speravate. Cosa non ha funzionato? Penso che oggi non siamo riusciti a trovare un sistema di muro difesa che potesse essere efficiente, infatti abbiamo sofferto un po', non siamo riusciti a trovare continuità. La prossima settimana vi aspetta una partita che potrebbe essere potenzialmente decisiva per la vostra permanenza in Serie A1 contro Firenze. Certo, bisogna anche vedere cosa farà Bergamo che fino a poco tempo fa perdeva 2-0 contro Novara. Come vi preparerete al match della prossima settimana? Penso che era molto importante oggi fare i punti che potevano permetterci qualche sicurezza in più, ma comunque l'idea era quella di cavalcare l'entusiasmo delle ultime due partite. Secondo me togliendo questa partita possiamo continuare a pensare di fare quello che abbiamo fatto nelle ultime due, quindi non perdere il coraggio e continuare con la determinazione. Questa sera sugli spalti qui al Palazzetto dello Sporto di Cuneo c'erano oltre 1800 persone. Ti fa piacere dire qualcosa ai tifosi? Quest'anno è stato un anno difficile, quindi direi che il fatto che ci sia così tanta gente ancora all'ultima in casa significhi tanto. È molto apprezzabile e ringrazio tutti. Grazie Terry, buonasera. Grazie mille.